Mi chiamate Peppino, vogliamo? È mio cugino, no? Prego, signore, si accoglie. È mio cugino. Sono il cugino. Eccolo là! Ecco le pupe! I signori vogliono cenare? No, 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 io non mi sento bello con lo stomaco. No, no, no. Trink, trink. Trink, c'è un trink. Un campanello. Sì, trink significa voler in inglese, voler bere, voler buare. Ah, io non capisco l'inglese. Champagne, signore? Champagne? No. Champagne, no? No, no. Che peccato, signore, perché abbiamo prodotto delle ottime marge. Eh, lo so, ma sai com'è. Ti prese anche? Ma ti pare che uno si mette una pi... La trippa secca sullo sto... Ah, va, la trippa secca. C'è la notte, dico, ma andiamo via. Moë chandou. Non ho capito. Moë chandou. Ah, sì. Ah, sì. Moë chandou. Ah, moë chandou. Adesso è Cher Antoine. Ah, io pensavo che le signore preferiscono qualche cosa di alcolico. In questo caso potrei consigliare un'ottima bottiglia di Park Lane. Ecco le... Oh, c'è questo Park Lane, cos'è? Quischie. Eh? Quischie. Sì, allora facciamo così, due fischie. E' verna... Ma non c'è qualche cosa di digestivo? A me mi piace tanto la limonata ruscè. Bravo! Quattro limonata ruscè. Limonata ruscè per il tretto. Di male orge, carina. Di limonata ruscè. E' come? Io limono. Che significa cia 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 cia? E' un proverbio giapponese, poi te lo spiego. Ah, poi me lo spiego. Ecco qua, signore. Oh, vai, vai, vai. Presto, 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 presto. A mia città. Prego. Ciao. Ma che fa? Ehi, poi se ne va. E se ne va. Chi ce lo fa vedere sulla me. E se ce lo fa vedere sulla me. Ah, ricomincia. Ma lascia stare la loro. Sì. Ma le signore. Viva le signore, si capiscono le signore. Ma come ha detto la piazza signore. Ma non è piazza, è merda. Sì, qualcuno. Alla salute. Alla salute. Cirio. Alla salute. Alla fuoco. Alla fiamme. Si salve in giù. Incredibile, basta. Si salve in giù. Si salve in giù. Si salve in giù. Si salve in giù. insomma da quando siete entrati in questo locale avete fatto una confusione fa cosa? l'abbiamo fatta per il tempo guarda un piromene ma che piromene d'Egitto? ma andiamo in fondo non si trattava che un'omoletta e una fiamma ok? un'omoletta roboletta e una fiamma e dove sta adesso roboletto? ma mi lasci perdere signori tornate ai vostri posti su signori musica, musica musica calma signori tornate ai vostri posti non mi lasci non mi lasci non mi lasci si è fatto male? no non mi sono fatto male mi prego adesso un po' di calma io capisco loro sono dei tipi piuttosto di partare il lungo siamo allegri capisco capisco ma adesso un po' di contegno un po' di calma va bene va bene va bene scusi tanto scusi tanto signori non offendo no non offendo nessuno mi si contegno diciamo eh devo dire il signore un po' di calma e beh faccia il suo domenico ecco porta subito qua il cliente ha sempre raggiù l'ha capito? esattamente signore eh scusa andò andò sì esattamente il cliente ha sempre raggiù sì noi abbiamo d'ordine ecco signora la porta mia sta là lasci fanno a noi lasci fanno a noi non ci scomodi se ne va se ne va noi siamo bravi di queste cose vada 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 sono nelle loro sì signore noi siamo bravi di queste cose ok due whisky ci siamo amore ho ritrovato il mio cappotto allora beviamoci so brava saluto cicillo amore mio dopo venire a casa mia perché? perché me la domani perché? perché? mmm ti farò vedere delle stampe cinesi ah è brava la donna è immobili città andò andò città se noi cameriere se la prende con me è la droga è nella tasca nella scatola del buono talco fatela dare andiamocene subito potrebbero vedermi per dire mio marito sai mi seccherebbe perché non gliel'ho detto ti prego ti supplico aspetta un momento Antonio Antonio la donna immobile eh eh non sono io è lui eh guarda adesso perché non si può cadare ah senta andò senta andò senta andò senta andò ci sta uno là che si è andato senta andò senta andò senta andò senti Antonio dico ci sta quel signore che forse vuole parlare con te fa dei gesti fa così dove è? che forse il ministro dove è? davanti a te davanti a te faccio guardi faccio guardi e guardi che devo fare faccio guardi guardo a me ah no no quello è è un amico mio si è un amico mio ma niente ballare a cui a me a me già mi ballo a destra ballare con io si bravo ma io ballo male pepino balla pepino bevi e balla bevi e balla andiamo a ballare alzate Sara dopo tu vedete a casa mia io farò vedere stampe cinesi andiamo tuffiamoci la dolce vita e che è questo che ballo è? chic chic cha cha mamma mia la dolce vita cinese ma come sei alta come sei alta si toglie le scarpe si toglie le scarpe cosa fa si rivertono un mondo e che c'ho in tasca? cosa è questo? non so ma è talco no talco è brotalco borotalco si dice borotalco ah si si hai ragione è buono me lo conservo non si sa mai a Natale vi faccio il bagno chi se ne frega allora ti decidi ma come faccio? non vedi che non è solo? va bene ci penso io temi la trusse presto ha perduto qualcosa? si la mia trusse avevo messo questa sedia non capisco senza non te la sarà messa in tasca lei inavvertitamente signore che va a presa per rullare ma è tanto così no per carità non voglio dire si accopoli guardi a mia pazienza grazie